Ciao Rannerospi e benvenuti a questo nuovo fantastico video! Quello di oggi è un video che a confronto tutti gli altri video sul mio canale è proprio levati! Ho avuto infatti l'occasione di andare alla sede di Ubisoft di Milano e conoscere Mauro Perini, direttore artistico del nuovo gioco che mi ha personalmente sottoposto ad una sfida di disegno e character design architettata dalla sua mente malvagia e di fargli alcune domande sia sul gioco che sul suo percorso nel mondo dei videogiochi. Qualcuno di voi potrebbe domandarsi ma come hai fatto a farti invitare da Ubisoft? Sei il milionesimo visitatore e hai vinto una visita agli studi Ubisoft di Milano Clicca qui per partecipare! Non c'è neanche un treno che non sia in ritardo Stiamo arrivando alla stazione centrale di Milano Io non mi merito di andare fiera di me stessa, delle cose che mi fanno ridere Il trasporto preferito dalle signore! Ok, possiamo andare! In Mario Plus Rabbids Kingdom Battle il Mushroom Kingdom viene malauguratamente invaso dai Rabbids che oltre a creare un enorme scompiglio portano con loro una minaccia in grado di mettere a repentaglio l'intero mondo Ma grazie all'unione tra Mario, i suoi amici e i Rabbids sarà possibile affrontare battaglie e avventure spettacolari e svelare tutti i misteri nascosti Sono in Ubisoft dal 91, nell'epoca del Game Boy Sono entrati in Ubisoft come 2D Artist E da lì attraverso il passare degli anni anche la tecnologia è cambiata Ho preferito rimanere nell'ambito del 2D Gioco dopo gioco sono passato attraverso diversi ruoli Ho fatto Light Artist, Animator, Lid Animator Finché ho trovato quella che è la mia collocazione come Concept Artist Quella figura che si occupa di dare l'input iniziale Crea tavole che poi vengono utilizzate da tutti gli altri dipartimenti per dare vita al gioco L'esperienza mi ha portato a diventare un Senior Concept Artist Fino al giorno in cui dicono c'è da fare questo progetto Tu sarai direttore artistico L'esperienza di direttore artistico è veramente molto forte C'è tanta pressione Si riesce a creare qualcosa grazie anche a tutte le persone che ci sono alle spalle Al team che uno riesce a creare Alla fiducia, alla capacità di ascoltarsi Di lavorare insieme Quello un po' alla fine crea la magia Ma prima di passare alla sfida alla quale sono stata sottoposta Mi raccomando non dimenticate di mettere un bel like a questo video Ma perché se lo merita Guardate che bel video, se lo merita Come funziona il nostro lavoro Ci chiedono di creare un personaggio che abbia queste determinate attitudini Quello che ti vado a mostrare adesso è l'hopper Personaggini che hanno la caratteristica di potersi muovere sul campo di battaglia saltellando qua e là Il mondo in cui dovevamo trovare adesso questo personaggio era il mondo spooky, casa dell'orrore Abbiamo pensato al clown Si comincia ad andare un po' più nel dettaglio Lo step convinceva Si passa a fare un lavoro un pochino più tecnico Quella che noi chiamiamo la tour table o la t-pose Che è quella che mostra nel dettaglio le proporzioni del personaggio Che poi i ragazzi del dipartimento modellazione utilizzano come guida per dare effettivamente forma al personaggio stesso Al contempo deve essere realizzato anche un guazzetto finale a colori Per far capire effettivamente il mood E anche arrivati a questo punto ci si scopre che qualcosa non funziona Ok Bisogna essere pronti a fare questo Prendere e buttare via Ci siamo spostati su una figura 30 passi Esattamente Sembrava non sufficientemente interessante Ci siamo spostati quindi su qualcosa che fosse un po' più forte Un soggetto di questo tipo Una specie di pupazzo di pezza Si si Potiva essere eccessivo Di nuovo Abbiamo abbandonato l'idea Bello questo Poi esatto Ci sembrava dare qualcosa di nuovo Vedere l'idea di questo rabbit Non più bianco Ma nero Ma nero Che sostanzialmente è questo E tutti se ne sono innamorati Usciva effettivamente Capisco Però c'è un ma Risultava essere troppo aggressivo Proviamo a cercare Dagli un taglio un pochettino più buffo Più da Halloween Alla zucca Che comunque tutti conoscono E da qui Adesso ti mostro In fase d'opera La creazione del bozzetto A colori finale di questo personaggio Passiamo finalmente al digitale E questo sarà utilizzato Anche dai modellatori Per capire poi I materiali che dovranno utilizzare La bravura e la capacità delle persone Che stanno facendo questo lavoro La loro professionalità È quella che poi ci permette Di ottenere dei risultati incredibili Cosa devo fare? Allora Facciamo finta di essere all'inizio Di una delle nostre giornate di lavoro Facciamo qualcosa di facile Ok Ti chiedo di far finta Di essere una del team di concert art E di dover creare dei bozzetti Per lo zig Il personaggio base Che tu incontri All'inizio proprio Di primo mondo del gioco Che cosa sono le nozioni In tuo possesso Viene fatto un mix Tra il DNA del coniglio E Quello dell'ambiente Quello dell'ambiente Hai detto che era facile È facilissimo Certo Ok? Ok dai Io resto qui intanto Così se vuoi Così mi guardi Così L'idea proprio dell'abilità Del disegno E richiediamo tantissimo Agli artisti La capacità di avere idee Dai adesso sto viaggiando Cioè posso Quale su questi Ti sentiresti di puntare? Quest'ultimo Ok Sarebbe stata la mia stessa scelta Ok Quindi adesso Cerchi di fare una versione Un po' più ripulita Ok Ok Vabbè dai facciamo che più o meno è questo Poi solitamente Guardo Sì E faccio I miei piccoli interventi Vai Fai a sentire la pressione Sì Vabbè tanto Devo ricalcare un disegno Che ha fatto Che fico Invece erano ti mostro Ma in realtà Con Zichi La prima cosa Che il giocatore deve vedere È essere anche qualcosa Che comunque la stima Siccome ci tenevo A non lasciare il lavoro incompiuto Una volta tornata a casa Ho anche deciso Di terminare realizzando La versione finale Del mio Zichi Ed eccola qui Qui Mauro Proprio qui Eccola eh Dico così Se vuoi assumermi Sei ancora in tempo Assumimi di prego Per tutti coloro Che si sono sempre detti Che il loro sogno Sarebbe stato quello Di lavorare nel mondo Di videogiochi Cosa che ovviamente Mi sono detta anch'io Molto spesso La possibilità di parlare E confrontarmi con Mauro Penso sia stata un'esperienza Veramente incredibile Quindi io ci terrei tantissimo A ringraziare Ubisoft Per questa bellissima esperienza Che mi ha permesso di vivere E che ha soprattutto Fomentato in modo incredibile Il mio desiderio di porre I miei artigli sopra il gioco E spulciarmelo per bene Proprio perché Sentircelo raccontare Da una persona Che ha avuto modo Di partecipare attivamente Alla realizzazione del gioco Ti coinvolge E ti entusiasma Quasi come se fossi stato Tu stesso a lavorarci E in un certo modo Si può dire che io Cioè L'abbia quasi fatto Quasi Cosa ci sorprenderà di più Di Mario Plus Rabbit Kingdom Battle Beh spontaneamente Mi vorrebbe la rinca E quella è la speranza Ovviamente mia Penso che Se si immagina Di prendere Qualcosa come Combat Exploration Prendere È un'esperienza Visiva Mixare tutto questo insieme Scicterarlo E trovarsi catapultati All'interno di un mondo Con questo tipo di caratteristiche Sia la sorpresa Più grande Ma quanto sei felice Così Come quelli che dicono I pesci No? Sì Vorrei dirvi che me li hanno regalati Ma in realtà li sto rubando Citerrei anche A dirvi quanto sia stata importante Per me la lezione Che ho imparato Ovvero Cliccare sempre Sui pop-up pubblicitari